A Biscolonio oggi ha deciso di fare una raccolta straordinaria di sangue, una giornata di donazioni in più rispetto a quelle già programmate, proprio per andare incontro a una serie di richieste che ci sono giunte nei giorni passati di aumentare il quantitativo di sangue presente in Regione Lombardina. 50 donazioni sono state effettuate oggi, 50 sacche di sangue sono state raccolte e queste vanno a rinforzare la scorta di sangue presente in Lombardia. Un grazie in particolare a tutti i donatori e donatrici che hanno partecipato a questa giornata straordinaria, seppur ricordiamo che in questo momento la Lombardia non è in sofferenza di sangue, il sangue c'è, c'è per le situazioni ordinarie e per le urgenze. Quello che abbiamo voluto fare è ulteriormente rafforzare la scorta di sangue per ogni urgenza. Grazie ancora.